Il nostro Paggelone Social va avanti con il centrocampo, il primo della lista è Federico Casarini, il centrocampista con un passato al Bologna, nella stagione regolare è stato l'uomo d'esperienza per la mediana dei lupi. Dopo aver visto prima Aria e poi di Gaudio finire in box, ha indossato la fascia di capitano con onore. Ci ha messo impegno, a tratti ha fatto vedere la sua qualità e la sua esperienza, ha iniziato da mezz'ala, suo ruolo naturale per poi finire per necessità da play davanti alla difesa, facendolo anche discretamente bene. Anche lui come tutti ha accusato qualche giro a vuoto e qualche partita storta, ma è uno di quelli da quale si può ripartire anche per chi ha un altro anno di contratto. In stagione ha collezionato 37 presenze, totale di 2.908 minuti giocati, conditi da 4 gol. Nella nostra pagina social tra Facebook e Instagram, Casarini agguanta la sufficienza piena. Deve giocare nel ruolo di sua competenza, ma vale per tutti i giocatori, speriamo che vada meglio, voto 6. Non giocando, nel suo ruolo naturale non ha mai espresso la sua qualità di esperienza, da riconfermare. Ci si aspettava molto di più da uno come lui, esperienza e sagaccia tattica, ma la visione di gioco non è sempre stata impeccabile. Forse il ruolo non era proprio il suo, ma ci si chiede se ancora il dinamismo è giusto per fare la mezz'ala, sufficienza di stima, voto 6. Restando in tema futuro, Casarini è uno dei pochi che forse resterà in Irpinia per la prossima stagione.